Ed eccoci ragazzoli, bentornati su Xenoverse 2, il quindicesimo DLC, come sapete è uscito, abbiamo già visto sul mio canale i nuovi personaggi, andate a recuperare tutti i video, e abbiamo già visto la primissima missione parallela, ovvero addestramento di Whis per Gohan. È stata una missione veramente assurda, mi raccomando, link in descrizione, nelle schede, già sapete tutto. Ma oggi andiamo a vedere la missione 155, una posa da eroe, cioè da sfidare tutta la squadra Giniu, sono curiosissimo perché le pose da eroi, loro ragazzi hanno tante esperienze in merito. E guardate, possiamo sbloccare un botto di cose, l'elmo di Gamma 2, illustrazioni varie e soprattutto le mosse dei Gamma. Gamma 2 è in cerca di una posa da supereroe, dagli una mano, e beh ragazzi, noi siamo qua apposta. Per la parte suprema della missione vi consiglio sempre di, a parte portarvi due Zamasu, ma bisogna concludere entro 9 minuti. Quale posa vorrebbe fare Gamma 1 insieme a me? Il mio senso dello stile da supereroe è impareggiabile, ma devo inventarmi qualcosa per noi due. Come sapete ragazzi, Gamma 1 e Gamma 2 mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto le pose e le mosse, guarda che pose va! È bellissimo e divertente. E viene proprio la squadra Giniu in nostro soccorso e vogliono combattere, ma ci insegneranno le pose. Non puoi insegnare a qualcuno come mettersi in posa, le pose vengono da dentro. Ci vuole cuore insomma, eh? E va bene, vediamo quanto ne avete voi. Vabbè ragazzi, è bellissimo il fatto di vedere la squadra Giniu contro i Gamma, perché loro praticamente fanno pose una più assurda dell'altra. Dove nascondeva questo potere? Guldo, non è che tu tanto in ogni caso avresti potuto fare chissà che cosa. E poi ragazzi, proprio questi personaggi, no? I Gamma, sono in pieno stile Toriyama. Come può un simile avversario crearmi tanti problemi? Non mi aspettavo un simile livello di potenza. Ragazzi, questi stanno buscando malamente, ma mi ha bloccato. Hai capito a Guldo? No, 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 Recom. Concludiamo con Guldo. Esatto. E lui dice, maledizione, ma mi dispa, amico mio. Accidenti, il Capitano Giniu dovrà pensare a una nuova posa. Ma io voglio vedere qualche altra posa proprio di Gamma 2. Che poi ragazzi, Gamma 2 è quello più biriconcello e le pose più divertenti in assoluto. Mamma mia, come stai buscando, Recom? Bene, davvero bene. Meglio di quanto credessi. Ma lei lo piglia a volo? Sì, i miei denti. Ora sono un po' arrabbiato e l'abbiamo distrutto totalmente. E Barter? No, è Barter. Barter, perdonami. È qua dietro. Ma caro mio! Ma eccoci! Che fai? Esplosione maligna. Non mi sono nemmeno trasformato. L'attacco non sarebbe dovuto essere così forte. Eh, forse non conosci Gamma. Mi sa proprio di no. E non poteva conoscerli. Perché lui ha combattuto con Goku e i nostri guerrieri Zeta. Un bel po' di tempo prima. Sono il più veloce dell'universo. Come ho potuto perdere. Ben detto. Eppure ha buscato. E arrivano loro due. Ecco lì. Io sono il magma rosso della squadra Genio. Jeez! Io sono capitano. Sono Genio. Il capitano. Ci manca il. Ci manca l'articolo. Vabbè, in ogni caso... Ma aspettavo però dei dialoghi un attimino più inerenti alle pose. Ne hanno fatto solo una all'inizio. Poi nel complesso stanno parlando di cose generiche. Cioè, tipo, non sei male. Sei forte. Sì, ma volevo una cosa personalizzata riguardo le pose. Altrimenti mi sa di missioncina un attimino banalotta. Eh, poi così non ci siamo. Scusa. E guarda Gisù come combatte e come attacca. Ma veramente? Sta a fare una suprema. Mio caro Gisù, ma veramente puoi permetterti una roba del genere? Distrutto pure lui? Perfetto. Mettiamo i piedi per terra così recuperiamo un minimo di vigore. Non abbiamo alcuna speranza. Però questa è una missione, ragazzi, che aveva un potenziale immenso. Perché le pose di Gamma 2, in generale queste pose, richiamano veramente tanto quelle della squadra Giniu, no? E in generale in Dragon Ball c'è sempre stata un po' la cosa delle pose. Che a me è sempre divertito e piaciuto un botto. Però è una missione che questa, secondo me, poteva dare un potenziale immenso. E invece se si parla solo ed esclusivamente di combattimenti di battaglia, sei migliorato, sei forte, questo e quell'altro, non è che si può fare chissà che cosa, secondo me, eh? Vabbè, l'importante è che nella seconda parte della missione ci si riprenda un attimino. Come può essere? Eppure, Giniu, state buscando veramente come se non ci fosse un tomorrow. Super Black Kamehameha? E concludiamo alla grandissima. Come può esistere nell'universo un guerriero più potente di me? Cioè, vedete, sono frasi generiche che vengono messe al personaggio già doppiate all'epoca. Non basta una posa qualsiasi, ma una che mette davvero in risalto te e la tua squadra. Ecco, questi sono i dialoghi che volevo. Visto che sono un capitano magnanimo, per questa volta lascerò correre. Fermo, dove... Ciottomatte, chi è? Ma? Ma? Guarda chi è, ma non è la parte suprema. Ho sentito parlare di uno come te. Uno in cerca di giustizia. Vabbè, loro pure con le pose non scherzano un pochettino, eh? Ma quei mostri sono il nemico. Se cerchi la giustizia, sono io la persona giusta per te. Nessuno parlava di giustizia, in verità. Noi siamo la truppa Pride, i difensori della pace e della giustizia nell'universo undici. Ci vuole qualcuno che ti insegni come si difende la giustizia. Ci penseremo noi. Vabbè, ma non si parlava di giustizia, qua si parlava di pose. Però comunque i due gamma, sia gamma 1 che gamma 2, ci tengono parecchio alla giustizia. Nel film, che ormai tutti avrete già visto, almeno chi era interessato, poi io l'ho visto, almeno nel 99% dei casi. I gamma 1 e gamma 2 entrambi sono molto dediti alla giustizia. Infatti, quando si rendono conto poi che sono dalla parte sbagliata, ci restano male e cercano di rimediare a tutti i costi. E sappiamo appunto quello che succede nel finale. E direi che ci siamo, ragazzuoli. Concludiamo? Riesci davvero a vedermi? Ti vede come? Anzi, tra poco, per la fine che stia fa, non ti vedrò più. Così si fa. E quindi, uno distrutto. Manca Jiren, che forse è proprio l'ultimo. Sono curioso di vedere un attimino se riusciamo a fare la parte suprema della missione, ma non ci sono dubbi. Rientriamo pienamente nei 9 minuti necessari per sbloccarla. E sì, al momento sono passati a stento 6 minuti, nemmeno, eh. Andiamo a concludere con la suprema, non credo basterà in realtà, eh. Come osi tradire la giustizia? E chi sarebbe la giustizia? Tu, tu saresti la giustizia, amico mio. Oh, attenzione alle supreme, perché vedevo appunto che stava... Oh, ma quanta ne fa? Le sta spammando proprio. Jiren, ma che si fa? Perdonami, ma a questo punto tocca distruggerti, scassarti, gamma 2. Però dovresti intervenire e non guardare, gentilmente. Vedevo gamma 2 un attimino preoccupato e imbambolato a non fare nulla. E direi che ci siamo, eh. Ok, non era quello che mi aspettavo. Ma lo vedi a gira? Oh, ma... Occhio perché pensavo di avere il vigore per l'evasiva. Ma proprio niente, zero. Un po' un peccato. Lui di supreme per ora non ne può fare. Direi che ci siamo quasi, eh. Ma guarda questo, che di nuovo si fa i teletrasporti. Guarda, guarda, guarda. Lanciato così e distrutto. Perfetto. La giustizia non può cedere alla malvagità. Non so che intendi dire con Undicesimo Universo. Ma mi piacciono i vostri costumi e le vostre pose. Soprattutto quelle degli attacchi speciali. Ah, quindi intendono anche quelle come pose. E ora di scoprire altri eroi locali e le loro pose. Guardalo, guardalo dietro. Bellissimo. Quindi si viaggia? Andiamo nel portale? Ma non è finita qua. E allora, Waiyu, vuoi vedere che io qua non ce la faccio in tempo a concludere per... Dentro i 9 minuti? Scusami. Mi sa, mi sa, Waiyu, che qua mi tocca iniziare a spammare seriamente, eh. Per aggiungere più veloce... No, i Great Saiyaman, pure loro, c'hanno delle pose assurde. Gohan, soprattutto, bellissimo. Però, ragazzi, io qua devo spammare. Perdonatemi, ma altrimenti non ce la faccio a vedere la parte suprema della missione. Ma guarda, ma che è che attaccano tutti i miei? Ma non sto capendo. Great Saiyaman. Eeeh, ma che si fa qua? E non dimentichiamoci di Great Saiyaman 2. Bah, non... Potevamo pure dimenticarceli, in tutta sincerità. Non è che... Dà un grandissimo contributo, ad essere sinceri. Ecco qua. Colpiamo. Lo piglia a volo. Ma gli fa pochissimi colpi, eh. Mmm, non mi ha soddisfatto più di tanto. Pensavo di riuscire a beccarlo meglio. Oh! Che si fa? Ma guarda sto Great Saiyaman. Quanto riesce a fare? Mi manca pochissimo. Ragazzi, io qua resto fuori, eh. Dalla missione suprema, dalla parte suprema. Mi tocca fare in fretta, proprio in fretta, in fretta, in fretta. Oh, acchiappa questo. Ragazzi, Great Saiyaman 2 è improvvisamente fortissimo. Pure stamina break, ragazzi. Ma io... Cioè, senza parole. Ho acchiappato il momento sbagliato, palesemente, per fare la trasformazione. Eh, ma non mi aspettavo una roba simile. Ma che è? Occhio perché ho solo 40 secondi. Ma al che vada, ragazzi. Faccio un taglio e... Ripeto la missione e ci arriviamo. Ma... Vedete, questo è quello che succede quando pensi... Di, di... Cioè, non voglio spammare, Waiu. Perché queste missioni, se tu spammi, le concludi in due minuti. Parliamoci chiaro. Non è nemmeno una missione che mi sembra particolarmente difficile. Anzi, mi sembra molto fattibile. Vediamo se riesco a concludere come si deve. Wow, Waiu. Ma sta Great Saiyaman, ma pure questa, mo... Veramente? Guarda, guarda. Non ci posso credere. No, assurdo. Riesce veramente a fare sta roba. Lanciata via? Niente, non si lancia via. Ragazzi, non ce la facciamo a fare la parte suprema. Vediamo. Se la concludo, poi riprenderò da questo punto e... E ci riproviamo. Distrutta. E così questa è la fine conclusione. Per pochissimo non ce l'ho fatto. Dopo tutto quello che ho visto oggi, pare che non ci sia nessuno con delle pose spettacolari come le mie. È un vero problema. Ma mi sa che sono proprio imbattibile. Se avessimo fatto la parte suprema della missione, lui avrebbe trovato qualcuno con cose assurde. Cosa ero venuto a fare qui? Ah, già. E si conclude. Vabbè, ragazzi. Un piccolo taglio e andiamo a vedere la parte suprema della missione perché io la devo assolutamente vedere. E otteniamo però l'attacco speciale. Non male. Questa volta ce l'ho fatta, credo in tempo, eh. Dopo tutto quello che ho visto oggi, pare che non ci sia nessuno. Vediamo però. Questa volta, infatti, arriva qualcun altro e si parla proprio di Gamma 1? Che fai? Com'è andata la missione? Guarda qui. Ho affinato la mia posa da supereroe. Dovresti farla con me? Forza! No. Ma come no? Come sei noioso? Che ne dici di batterti? Se vincessi io, faresti la posa con me? Vediamo che risponde. Non risponde proprio? No, volevo una risposta. Ma su. Ma come? Ok, nel frattempo, noi ragazzi lo distruggiamo totalmente. Cos'è questo potere? Non se l'aspettava proprio Gamma 1? Ma veramente ci credevi così scarsi? Pure la presa. Ci lancia via? Va bene. Eh, però la presa più bella c'è la Gamma 2, amico mio. Diamoci dentro. Mi sembri fin troppo entusiasta. Sono colpito. Lascia che io colpisca te. Ma guarda com'è fiero. Furia divina purificazione. Wow, mamma mia, i ragazzi andati a terra. Che disdette. Che dispiacere. Doveva pigliarlo in pieno. Guarda, guarda. Pur la Suprema si fa. Ma veramente? Convintissimo lui. La giustizia non può perdere. Quindi vedete, comunque, parla anche lui di giustizia proprio come i tizi dell'universo 11. Eccoci qua. Concludiamo la bella pulita. Io il capolavoro del dottoreto ridotto così. Ho vinto io a quanto pare. Ora dovrei fare la posa con me. Fai così con la mano destra e poi così con la sinistra. Voglio proprio vederli. Dove stanno? Ma così non mi piace per niente. La destra dovrebbe andare qui. Sul serio? Avanti, ti ho battuto. Facciamo come dico io, ok? Ma un supereroe dovrebbe lasciare tutti a bocca aperta. Non è quello che stai facendo tu. Ma in parte sì, in verità. Ehi, sono io quello che ha vinto. E quindi, conclusione suprema. Missione che secondo me poteva dare molto di più. È divertente, ma poteva esserlo ulteriormente. L'abbiamo completato in questo caso in nove minuti, eh? Quindi, compresa di parte suprema. E otteniamo l'elmo di gamma 2 e poi ben due illustrazioni. 3,42 e 3,97. Top. Questo è l'elmo di gamma 2, ragazzi. Ma non gli sta benissimo, secondo me. Queste, invece, credo che siano le illustrazioni. La 342, bellissima questa di piccolo col Macan Cosa Poo. E poi abbiamo questa di Videl. Ragazzi, cioè... Sviluppatore di Xenoverse 2. Ma che mi combinate? Ma che è? Vabbè, ragazzuoli. Presto, ovviamente, vedrete qua sul canale anche le altre missioni parallele. Quindi, mi raccomando, pollice in su. Ora iscrivetevi al mio canale. Vi saluto. Alla prossima. Ciao!